Nell'Ottocento l'amministrazione ha garantito funzioni essenziali, ordine pubblico, giustizia, affari interni ed esteri, fisco, istruzione, opere pubbliche. Per offrire risposta all'esigenza di nuove politiche sociali e alla domanda di servizi, nel periodo giolittiano si ampliano le funzioni, soprattutto quelle legate ai servizi sociali e quelle cosiddette industriali. Di contro, con il complicarsi della legislazione e del procedimento amministrativo, all'interno dei ministeri la burocrazia accentua il suo formalismo giuridico. Ne deriva l'urgenza di amministrazioni più dinamiche, basate su criteri economici e di efficienza, esigenza che porta a una tendenza correttiva rispetto ai processi di burocratizzazione dell'età giolittiana, cioè a un pluralismo amministrativo destinato ad accentuarsi nei decenni successivi. Per superare la rigidità dell'amministrazione per ministeri, al modello cavuriano si affiancano nuovi schemi di organizzazione. Si tratta di uffici speciali, su cui spesso il controllo della Corte dei Conti si limita al consuntivo, anziché essere preventivo, come nel resto dell'amministrazione statale. Hanno organizzazione interna e reclutamento del personale mutuati dall'impresa privata, da cui spesso provengono i dirigenti, che non sono dunque necessariamente di estrazione burocratica. È la prima legislazione speciale per la gestione del territorio in caso di sottosviluppo o di calabità naturali, a portare alla creazione di uffici speciali. Presso il Ministero dei Lavori Pubblici sono istituiti il Commissariato Civile per la Basilicata nel 1904, gli uffici speciali per la ricostruzione delle città della Calabria e della Sicilia dopo il terremoto del 1908, e il Magistrato alle Acque, organo del Ministero ma decentrato a Venezia. La sua istituzione, nel 1907, è finalizzata alla gestione, alla sicurezza e alla tutela idraulica della Laguna di Venezia, compiti attribuiti fin dal Cinquecento ad appositi collegi. Dopo gli scandali del Mose, il Magistrato alle Acque è stato soppresso di un'altra di recente con una legge del 2014. Al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è invece istituito nel 1909 l'ufficio speciale per la Sardegna e, come accennato nella lezione precedente, presso lo stesso Ministero nascono uffici legati alla politica di intervento nel mondo del lavoro, come il Commissariato per l'Emigrazione nel 1901 e l'anno successivo l'ufficio del lavoro. Lo sviluppo di uno Stato dei servizi, che mira a soddisfare bisogni riconosciuti nel tempo come essenziali, determina la nascita delle aziende. Il modello dell'azienda di Stato è mutuato dall'azienda speciale, prevista nel 1903 con la legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi per gestire le imprese industriali dei comuni. Su queste vi rimando alla lezione dedicata all'industrialismo municipale. La creazione di aziende, finalizzata la gestione di servizi industriali a livello nazionale, diversifica ulteriormente le forme dell'amministrazione statale attraverso strutture più agili di quelle ministeriali. Emerge cioè la tendenza a ricercare l'efficienza fuori dall'organizzazione per ministeri, nell'ambito di apparati semi-autonomi. Pur rimanendo soggette al riscontro delle spese da parte della Corte dei Conti e dipendendo dal corrispondente ministero, al cui bilancio viene allegato quello dell'azienda, a questi apparati sono consentiti decentramento patrimoniale e soprattutto autonomia funzionale. Tra le articolazioni ministeriali di tipo aziendale vi ricordo almeno l'azienda per la derivazione delle acque del Volturno, voluta da Francesco Saverionitti nel 1904 per lo sviluppo industriale di Napoli e sotto la direzione del Ministero dei Lavori Pubblici l'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, diretta da Riccardo Bianchi, già direzione della società privata concessionaria per la Sicilia. Dopo un lungo periodo di concessione ai privati, nel 1905 vengono dunque nazionalizzate le ferrovie. Il modello dell'azienda di Stato sarà autorizzato anche nel periodo fascista e nell'Italia Repubblicana. Tra gli esempi, l'azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita nel 1925 con sede a Milano, e l'azienda autonoma statale delle strade, l'ANAS, creata nel 1928. Il modello dell'azienda di Stato sarà utilizzato anche nel periodo fascista e nell'Italia Repubblicana. Tra gli esempi, l'azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita nel 1925 con sede a Milano, e l'azienda autonoma statale della strada, l'ANAS, creata nel 1928, o l'azienda per gli interventi nel mercato agricolo, nata invece nel 1966. Il modello dell'azienda costituisce una sorta di deroga al sistema di amministrazione per ministeri. Non di meno, le aziende restano sempre delle strutture interne all'amministrazione statale tradizionale. Ciò frustra la ricerca dell'autonomia funzionale a causa dei principi e dei criteri tradizionalmente riconosciuti come prevalenti all'interno dell'amministrazione statale, cioè una visione fortemente gerarchica della responsabilità ministeriale, un'organizzazione uniforme della gestione del personale, le regole costrittive del diritto amministrativo e l'applicazione rigorosa dei controlli sulle spese da parte della Contabilità Generale dello Stato e della Corte dei Conti. Questi limiti ripropongono il problema di individuare un modulo gestionale pubblicistico, un modulo più efficiente. Così nel 1912 nasce il primo ente finanziario, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, l'INA, prototipo degli enti pubblici economici che si diffonderanno successivamente. L'ente è creato dallo Stato con l'obiettivo di gestire in regime di monopolio il ramo dell'assicurazione vita. Lo schema organizzativo dell'INA è quello di una struttura snella, con essenziali regole interne, che valorizza le competenze tecniche. Accanto al direttore è provisto un consiglio d'amministrazione, composto in parte da funzionari dei ministeri e in parte di cittadini aventi una riconosciuta competenza tecnica e amministrativa. Questa struttura riprende alcune caratteristiche dell'Azienda delle Ferrovie, ma si colloca completamente al di fuori dell'amministrazione statale. L'Istituto ha una personalità giuridica propria, adotta una contrattualistica di diritto privato e rapporti con il personale di tipo privatistico. Gli oppositori al progetto ottengono però una moratoria di 10 anni nell'attuazione della legge. Così di fatto l'ente diviene operativo solo durante il periodo fascista, quando accogliendo le pressioni di ambienti imprenditoriali, l'INA opera sul mercato accanto ai privati come ente assicurativo pubblico, ma non in regime di monopolio, come inizialmente previsto. L'ente si sviluppa anche in altri settori di attività e con le risorse finanziarie raccolte sostiene le politiche sociali ed economiche del dopoguerra. Così nel 1926 partecipa alla nascita di un importante attore dell'economia pubblica italiana, vale a dire l'azienda generale italiana Petroli, l'AGIP, società capitale pubblico operante nel settore petrolifero. Il modello dell'INA è concepito dal radicale Francesco Saverionitti, all'epoca ministro di agricoltura, industria e commercio nel quarto gabinetto Giolitti. È disegnato da due funzionari di quel ministero, Vincenzo Giuffrida e Alberto Beneduce. Al nome di quest'ultimo è legata un'intera costellazione di enti pubblici che riprenderà i tratti statutari dell'INA, i cosiddetti enti Beneduce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.